Ciao creatura, io sono Eccatesplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cusai e S.M.A. Buona domenica, eccoci tornati con un nuovo video della domenica per il tuo riposino domenicale o per la buonanotte. Ho visto che ha vinto il mobile bianco, quindi andiamo già come prima cosa a scegliere il mobile che avete votato, ovvero questo qui bianco. No, abbastanza diamanti ma non importa, guardiamo la solita pubblicità. Ok, eccoci qua, qui è dove andranno tutti i miei shampoo e tutti i tuoi prodotti per la cura della pelle. Giusto, poi anche le creme, i tonici, le maschere per il viso. Ho capito, ho capito, non serve che i nomi di tutti. Ok, non abbiamo più stelline quindi dobbiamo andare a fare, ecco che mentre si è emozionata per il mobile è andata in bagno. Tra l'altro qui entro vedo una piscina verde muffa, mamma mia, è radioattiva quella piscina, non vedo l'ora di pulirla. Allora, andiamo a prendere, a vincere altre stelline che così possiamo fare lo specchio o il mobile, qui non so, credo sia uno specchio. Una specchiera mobile, armadietto. Allora, lei ci dona ben 5 diamanti, quindi anche no Sara, sei un po' tirchio un po', eh. E invece qua c'è 15 diamanti, quindi andiamo subito. Sistema la roba alla perfezione, ogni volta si è scritto la stessa roba. Wow, ma cos'è questo mutandino sexy? Allora, abbiamo delle scarpe, delle t-shirt, ci sono anche dei vestiti, una giacca, una giacca rossa, una giacca del pigiama. Sono matura, adesso mi manca un giallo, poi facciamo l'arcovaleno, poi abbiamo dei cassetti, qui secondo me andranno le scarpe. Potremmo decidere magari più eleganti, più sportive da un lato. Questo cos'è? Calzini piegati proprio alla perfezione. Metterei qua. C'è uomo e donna? Questi calzini sì che siano uomo o donna? Non lo so. Allora, qua mettiamo quelli da uomo. Non dice niente, quindi non si sa. Ci stiamo facendo bene. Questi credo siano da donna. Qua non ho idea quale sia il calzino da uomo e quale sia il calzino da donna. Poi questi cosa sono? Calzini o mutandine? Boh, non lo so. Come al solito... Aspetta, abbiamo ricevuto una faccina che ci notifica che forse stiamo facendo qualcosa bene. Benissimo. Ok, spero che ci facciano sapere anche se stiamo facendo qualcosa di bene, di positivo. Però vedo dei calzini viola. Però... Ah, non l'abbiamo messo così. Non lo so. I calzini non ce ne stanno. Se ce ne fossero quattro, potrei mettere lì tutti insieme. Ma se sono tre... Probabilmente non teniamo a mettere le maglie. Mettiamo le viola di qua. È contento. Mettiamo quelle tendenti a rosso. Non so se stiamo facendo bene. Ovviamente... Perché non si capisce molto l'ordine. Qui c'è un'altra mutandina così contento. Bene. Molto piacere. Questo è più tendente di là. Qui c'è dell'altro arancione. Poi... Scarpe. Anche queste non so se hanno un ordine... Di colore. Perché... Anche lì c'è del blu. Non so, proviamo così. Proviamo così. Allora... Un po'. È rimasta una scarpa rossa. Questa cosa è rosso? Un'altra scarpa rossa. C'è una mutandina, ma di nuovo. No. Perché... Queste ci stanno murendo qua. Eh... Però lì di là i calzini. Non so... Vediamo. Allora... Eh... Non so se... Devo fare così. Ah... Così va bene. Ok. Allora... Qui volendo ci stava anche qualcos'altro. Eh... Dovevo mettere delle magliette, forse... Non si capisce, onestamente. No, no. Come al solito non ci dà segnali. Non ci dà molti segnali per farci capire se stiamo facendo bene o male. Non si sa. Parto le pubblicità così a tutto volume. All'improvviso. Io ho le cuffie. Ho preso un colpo. Che non ti dico. Allora... Vediamo un po'. Forse questo... Forse qui ci siamo. Forse, no. Mettete le... Imoshi. Cioè, così contente. Quindi... Forse ci siamo. Non so se andavano messe, non so. Quelle sportive da un lato. O se va bene lo stesso. Perché sai che noi siamo troppo precisi. Poi... Magari stiamo facendo tutto per niente. Lui lo voleva cazzo. Ma... No. Non si sa. Ma... T'ho chiuso anche il cassezzo io. Nel dubbio. Ma qua... Penso che... Ci siamo, eh. Abbiamo capito come li vuole. Forse anche la questione dei cassini. L'abbiamo capita. La questione di mutandine che non è molto chiara. Vabbè. Pian piano adesso. Tanto visto che se... Forse si ci fa anche sistemare. E... Anche dopo che abbiamo... Superato il livello. Quindi possiamo sempre migliorarci. Adesso la questione è mutante. Andranno tutte insieme. Dovevo metterle di qua, separate. Di qua andavano i t-shirt. Non lo sapremo mai. Ok. Ok. Boh, mi sembra felice. Quindi in teoria... Mi sta salendo qui la questione... Stelline. Quindi forse quando ho i... i pigiami. Non lo so. Non mi da cenni di... Di nessun tipo. sembro felice così ma noi la vogliamo quella stellina lì ci manca quindi adesso faremo di tutto di tutto no e infatti allora un attimo siamo calmi no no mannaggia ok mi avanza un cassetto allora così adesso si arrabbia un attimo spostate le cose e voilà tre stelline e quindi ci manca non so se si poteva spostare direi altre mutandine però vabbè ci manca un cassetto ma a noi non interessa perché a noi vogliamo solo le tre stelline giusto creatura esatto yeah bel lavoro beh a sto punto ancora una pulcità così aumentiamo i diamantini e ricompensa abbiamo trovato un phone ci sta ci sta il phone mettiamo in cina una vasca del bagno ma si guardiamo la pubblicità prendiamo un'altra ricompensa come non ho detto noi tutto quello che vinciamo lo schiaffiamo dentro abbiamo test dove sta andando andiamo a aprire qua le nostre ricompense il nostro phone ecco il fario dove è andato adesso il phone eh ho perso il phone eh vabbè il phone lo so lo troveremo da qualche parte poi questo la schiaffiamo qua sopra e basta abbiamo perso il phone molto bene molto molto bene dove è andato il phone eh vabbè è andata così allora lo ritroveremo in qualche stanza probabilmente in giardino comunque andiamo ad acquistare il nostro specchio allora bianco ci starebbe con tutto l'arredamento effettivamente poi c'è questo tonto un po' etnico bello questo mi piace con la luce però stona perché non c'entra niente anche se i diamanti li abbiamo non è un problema ma proprio per gusto personale metterei quello bianco anche perché ha questa questa cornice un po' non lo so aesthetic direi anche se questo mi piace perché fa un po' chino pandan con il col pavimento che già faceva un po' non è che questo pavimento sia chissà cosa bellissimo ma si dai crepi la parizia scelgo io questo qui dai è un po' più questo è un po' più sempliciotto questo è un po' dai dà un po' quel tocco caldo un po' etnico mi viene da dire etnico di solito questi mobili li chiamano così ma in realtà non sono sicura che sia il termine giusto però dai vediamo cosa dice specchio specchio delle mie brame chi è la persona più bella del reame secondo me sei tu ah secondo me invece sei tu abbiamo sbloccato la cucina che è un disastro come tutte le stanze il phone non si sa dove sia se mi è rimasto qua il phone il titolo sarà è lo il phone scomparso allora ci sono delle cose da da mettere via allora c'è tecnologia e invece spazzatura direi che questa è tecnologia da una pubblicità di tecnomath qualcosa del genere vabbè tecnologia abbiamo il tostapane questo qui rollatore secondo te è considerato tecnologia la bilancia ma si via ok questo lo chiudiamo e lo mandiamo via e adesso tutto il resto direi che è trash 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 via tutto ci passa altrino rimuovi i mobili vecchi via 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 mamma mia qua perde acqua ed è sta andando a fuoco tutto meglio sbrigarci ok adesso ci servono tre stelle purtroppo ne abbiamo una sola ma io volevo andare a cercare quando ho spostato la pianta le spalle e volevo cercare il phone oh mi è rimasto questa cosa dove potrebbe essere ma non può essersi mi sono in una stanza di queste perché non fa appoggiare gli oggetti quindi devo essere qua per forza non mi fa zoomare purtroppo dove può essere il phone no dietro dove ho messo il phone mi avrebbe piaciuto metterlo sul mobile però dove è andato non si sa ci abbiamo perso il phone perché viene fuori sto phone puoi scartare gli oggetti non desiderati nella spazzatura ok si non dirmi che l'ho scartato per sbaglio no può essere può essere si vabbè è passata già per una volta diminiamo una cosa carina scartato molto bene vabbè restaremo per sempre con questo dubbio andrei sempre dai 15 diamanti anche se in realtà noi adesso i diamanti non ci interessano ci interessano le stelline però perché ero curiosa magari questa ci dà pochi diamanti ma è più veloce il gioco ci dà lo stesso le tre stelline andiamo a provare andiamo a provare allora chi c'è posizioni bene non l'ho detto vabbè posizioniamo dentro i scattoloni sarà quella allora abbiamo sempre la tecnologia che stampante vecchie ma che telefono vecchie ma quando l'ho fatto sto gioco è ambientato in tempi la lampada sarà tecnologia si chiudiamo questo scattolone e tutto il resto è noia questo resto è odder 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 questa cosa manca ancora che cosa manca anche i quadri che non ci stanno neanche qua non si sa per magia stanno dentro il scattolone via 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 e via siamo velocissimi qua scegli il pavimento le pareti ok allora pareti rosa o questo marrone mettere rosa se no c'è questo mamma mia no questo sembra un esterno sembra all'esterno di una casa questa sembra da troppo fastidio agli occhi a troppa decorazione però potrebbe non si può più uscire perché io volevo uscire e vedere i pavimenti sono bastardi non te lo fanno vedere per essere un salotto non sta male sia rosa che marrone quindi abbiamo cioè non si può sbagliare tutto sbagliato quindi invece di così quindi io direi rosa ah questo era il tavolino io volevo la pavimentazione accidenti allora tondo mi piace molto anche questo molto estetica però troppo antico questo sembra a casa mia è tondo più materno quale sarà il pavimento? oh no il tappeto abbiamo il tavolo tondo quindi possiamo scegliere se fare una cosa tipo un tappeto rettangolare o un tappeto ovale non so che colore sarà il pavimento quindi io direi ovale per rendere tutto un po' più equilibrato con le forme sarà il tappeto sì sarà il pavimento perché fatti sti pavimenti con sti disegni mettere questo perché sembra quello di casa mia marrone sai se avessi fatto marrone marrone che brutto è troppo scuro questo pavimento anche se mi piace di più la trama ma abbiamo scelto purtroppo questo tavolo scuro 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 quindi io metterei questo anche se ci sta però non ci sta con ma comunque niente di tutto ciò ci sta con la parete quindi proprio se avessi messo anche la parete marrone scura sarebbe stato tutto troppo pesante troppo cioè io e il mio papà che è bianchino e mi ha insegnato appunto che sarebbe meglio fare tutte le pareti bianche della casa perché così la casa sembra anche più grande respira più luminosa invece poi ci sono quelli che ci fanno le pareti rosse le pareti scure e appesantisce no? ti senti questa casa ti senti soffocare psicologicamente quindi di rosa sempre meglio che marrone scuro devo dire anche se non mi piace quella rosina lì però è più simile al bianco che il marrone scuro questo è stato il mio ragionamento cosa ci sarà qua? un bel divano noi abbiamo scelto questo per la nostra casa tra piccoli di nostra cioè quella del gioco ecco e se no c'è questo bel pesca questo rosa pesca che magari può riprendere un po' le tonalità del muro oppure abbiamo questo che riprende un po' la tonalità del tappeto e del tavolino però mi sembra sempre poco comodo mi sembra una cosa da giardino quindi opterei per questo che mi sembra molto più confio cioè bello morbido se no c'è questo ma stona totalmente sia con la forma che col colore quindi prenderei questo poi qui cosa abbiamo una lampada allora questa molto calda si abbina anche alla pavimentazione questa è bruttissima sembra un tubo della della caldaia della stufa cioè che brutta questa non c'entra un pifferaio magico con tutto il contesto mi sembra troppo anni 80 non mi piace quindi prendo la prima ultima cosa cosa c'è qui ha un mobile portocetti allora niente le terze stavano sempre perché non abbiamo scelta neanche una e ci siamo un po' affidati al primo e alla seconda non perché non avessi voglia di guardare la pubblicità perché proprio fin dall'inizio non mi piacevano allora diciamo che questo si abbina con più o meno il tavolino il tappeto questo fosse quella che ci sta meglio però vorrei abbinare qualcosa non lo so stona troppo questo tavolino non lo so no dai no mettiamo questo perché è più carino esteticamente ok abbiamo fatto dai poteva uscire molto peggio eh te lo dico ok ok ruota gli scatoloni e posizioni nuovi oggetti c'è un pacco ricardo sicuramente c'è da guardare una pubblicità quindi non tocchiamolo apriamolo vediamo cosa troviamo allora per 5 diamanti secondo me c'è troppo da fare qua troppo lavoro dopo pensavo che per 5 diamanti fosse ci fosse meno cose da fare è una cantilla questa spero un pasticcino messo lì così una piantina intanto posiziono qua possiamo spostare vabbè qua vabbè che bella questa tasta con la una volpe cosa è una volpe l'altra piantina vi metterei qua a questo punto vicine 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 sta accadendo una cantina non lo so oh mamma mia allora proporzioni un po' qua la situa perché non so neanche quanti quanti quadri ci saranno poi ecco appunto diciamo qua abbiamo delle le candele insomma quella signora su tiktok che diceva l'ho fatta io 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 e faceva le candele con tutti guarda la saponete con tutti questi cibi bellissimi tra l'altro super realistiche non so se l'ho mai vista come dicevo prima che parti saponete da bomba volevo creare qualcosa di non so carino bu vabbè piattino libri andiamo in sotto che pesano che non si cadono qua è un casino vogliamo mettere la piantina vogliamo mettere la piantina sopra un bicchierino vogliamo mettere l'acqua sì ho fatto la candela l'ho fatta io 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 si può fare così ecco mamma ho preso il pianto non ha scala ma non ha senso questa questa stanza non ha alcun senso ancora il piattino ancora non ci sto più andavano qua allora i dolcetti po' o ce ne stanno due volendo anche no non mi fa più togliere non mi piace l'ho messo tutto storto non prenderemo mai la nostra stella e vai questa pianta dobbiamo posizionare bene adesso su questi piattini beh chi hai da sole ma che ma che ma che non mi piace senza ma che non me lo fa più mettere sopra cioè potevano starci due due tortini due fettine di torta lì in quel piattino che è tutto scentrato che è veramente assurda la cosa un altro piattino e noi dobbiamo alternare seguita dalla ah comunque forse ho trovato un altro giochino carino che però è un po' creepy creepy tale si chiama non so non so non è acquistarlo ci sono tanti diciamo episodi ma perché me li fa mettere dietro al divano ste scarpe non lo capito e non me li fa mettere oggi all'altra perché non ci sta qua no non le mettiamo a staccare le scarpe le scarpe le scarpe le scarpe ci stavano qua tutti e due vediamo no ma perché fa così ma che brutto quindi volevo metterle qua l'altro ah bene niente così ma perché mi fa me li mettere cioè ecco no ce l'ho fatta anche se volevo mettere di là le cacca che mi ha spostato un libro piano ok la pianta la mettiamo qua e non ci sta ovviamente super top gli occhiali là ma quante piante sono ci stiamo ho fatto i piaccetti però una stanza così piccola ma che l'esitro perché gli occhiali non gli occhiali mi mettiamo cioè che disordine allora ora via 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 ok la tegliera sì allora io ho questa piantina perché intriga come si direbbe in diretto bene allora qui c'è un di parti comunque stavo dicendo che ho trovato questo gioco ci sono tanti ce ne sono tipo un quattro mi pare di storie diverse però è un po' è tipo punta click o questo del genere con gli enigmi però si chiama creepy day quindi è creepy stanzialmente solo che appunto non non so se potrebbe rilassare la domenica moveriggio perché adesso stiamo facendo questo gioco così però dopo questo diciamo che non è che questo volevo tenerlo così per al posto di quando avremmo trovato qualcosa di più bello insomma ecco non so se mi sono spiegato qua mi fa schifo come abbiamo messo però abbiamo le tre stelline quindi chi se ne frega a questo punto let's go andiamo completa ok apriamo andiamo andiamo un'altra cosa da perdere vediamo cosa perderemo eh no questo non dobbiamo perderlo è il nostro il nostro cena il nostro cena no grazie vorrei vedere altre pubblicità quindi nei commenti scrivimi se vuoi continuare con questa serie qua che secondo te è molto più rilassante oppure se vuoi che acquisto quello creepy tale e e così lo proviamo quello lì proprio ha dei livelli capito quindi si va dall'inizio alla fine farei solo che non so se ha dei disegni bellissimi comunque ha una grafica bellissima sembra un fumetto disegnato a matita ed è un po' alla Tim Burton diciamo e allora decidiamo il pavimento di questa stanza che sarà poi la cucina allora io metterei questo perché questa mi 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 triggera un po' la visuale questa è un po' più rilassante il palchè e questa è proprio brutta già di là che è verde a me piace però anche se questo tipo lo c'è di mattonelle andrebbe meglio per una cucina perché se si bagna è tutto invece il palchè se lo bagni già proprio ma questo non è il palchè di legno vero è quello finto quello che si può lavare e che non si confia se si bagna giusto quindi opterei per questo e abbiamo finito tutti i diamanti e avevamo giusti giusti contati vediamo cosa dice se le garba queste mattonelle mi piacciono un sacco peccato che non siano mattonelle ma non importa fanno molto cucina da ristorante ma non è vero cosa dici posizioniamo il nostro cibo che in realtà volevo mettere occhio a non perderlo non lo posso mettere qua posizioniamo posso metterlo qui lo mettiamo intanto su sto tavolino qua ma poi dopo lo metteremo in cucina facciamo un nuovo gioco e poi ti faccio scegliere questo qui che credo sia la cucina ci servono almeno due stelline ma noi puntiamo sempre al massimo si è sbloccato anche Oliver stanza della streconeria facciamo prossima volta dai ce la gustiamo prossima volta andiamo da chess perché ci ci paga è quella che ci paga più money cioè più diamanti alla perfezione allora ci sono queste sono delle tovaglie le tinde no ho delle dei copriletti delle lenzuola può essere si sono le lenzuola dal disegno direi intanto posizioniamo imprimo questi stelline questo non c'è ancora ah niente dovevo mettere qua non mi ricordo l'altra volta sarò arrabbiata perché come dovevo metterli e non mi ricordo cosa ho sbagliato dovevo mettere così non so quanti colori ci siano quello non so che sfumatura voglia non si sa niente ok così allora c'è un altro di giallo 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 proviamo così 3 4 5 sempre se sono 5 non me ne aumentano devo fare questi però se non mi escono devo fare forza la lana per faccio questo faccio le stettine i poix ok sposto le cose ok perfetto i fiori i fiorini queste sono delle cose dell'Ikea non lo so mi ricorda un po' le fantasie bua altre bua abbiamo preso la nostra prima stellina quindi più o meno questi li abbiamo sistemati tutti come si doveva abbiamo due stelline anzi adesso adesso bella domanda non mi sta mettendo emoji non so se gli va bene proviamo uno due tre quattro un due tre quattro un due tre quattro cinque vediamo due tre quattro 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 no che c'è cosa cosa no che qual è il problema stella fammi capire tutti questi sbagliati ma non mi ricordo mai la logica che vuoi non mi ricordo non mi ricordo così ok due tre quattro cinque ok vai uno due tre quattro cinque uno due tre quattro uno due tre quattro cinque uno due tre quattro yeah visto beh effettivamente è molto grattibile da vedere e crepi la farizia 45 diamanti ce li pigliamo tutti anche perché siamo a zero vediamo cosa scarta la carta yeah cibo yeah abbiamo trovato questo cibo e va bene andiamo a scegliere insieme cioè o meglio tu andrai a scegliere tu sceglierai non tiro neanche fuori qualche perché paura di perderlo non ho più posto dove metterlo e lo posizioneremo quando abbiamo un tavolino della cucina intanto scegliamo allora con questa pavimentazione vuoi la il forno e la i fornelli la cosa comestica è così molto molto moderno credo sia a induzione anche questa induzione quella un po' più vecchia diciamo normale che ce l'ho così a casa un'altra induzione ma rosso allora io saprei già quale scegliere perché diciamo che la nostra casa insomma no in realtà no adesso ci penso perché è un po' sul antico un po' sul nuovo beh abbastanza moderna in realtà i colori bassi sono gli stessi però io non voglio influenzare uno chi se ne frega perché poi si deve essere tra virgolette omogeneo con tutta la casa però la cucina è un'altra stanza quindi non guardare troppo il bagno ok quindi scegli la cucina numero uno la cucina numero due la numero uno anche perché qua fa schifo ma dopo lo cambiamo numero due o numero tre fammi sapere quello come al solito quello più votato vincerà e spero che questo video ti abbia fatto rilassare grazie per il like grazie per il commentino sia random che con la decisione fammi sapere anche per quanto riguarda il gioco se vuoi proseguire con questo se vuoi che passiamo a un gioco un po' tra virgolette più serio senza pubblicità e perché tu non le vedi ma ogni due secondi spuche fuori una pubblicità all'improvviso e se vuoi un gioco più serio con proprio dei livelli anche se sarebbe bello farlo in live quello perché però devo giocare da sole invece in live sarebbe bello perché appunto potresti interagire e suggerirmi cosa fare però anche qui uguale quindi vabbè però se vuoi un gioco un po' più serio prendo quello non c'entra niente con il riordinare sono una serie di enigmi c'è una storia sotto e però non è è creepy creepy tale però io toglierei l'audio e sarebbe solo immagine la mia voce quindi non c'è in italiano ma c'è con nessuno tutti i titoli italiani quindi leggerei in italiano e tanto toglierei l'audio quindi a noi non si interesserebbe comunque la voce italiana quindi prima che però ci siano i sottotitoli perché non vorrei tradurre qualcosa di sbagliato e vabbè fammi sapere nei commenti come sempre ti auguro buonanotte buon relax buon riposino pomeridiano ciao creatura ciao a tutti ciao a tutti